Sono Gian Giacomo Vedani, in arte Francesco, e sono qui nella sede di Arse Quitandi. Che cos'è Arse Quitandi? È sostanzialmente un'accademia che io ho creato per dare la possibilità a giovani ammazioni e giovani cavalieri di imparare un antichissimo mestiere, che è quello dell'addestratore di cavalli. Ho un'estrazione classica, ma mi sono specializzato nel recupero di cavalli difficili e nella ginnastica di cavalli sportivi e non. Allora, vi voglio ringraziare innanzitutto perché mi date la possibilità di rapportarmi con voi anche attraverso questo canale che è l'eredità dei classici. L'eredità dei classici è una cosa importantissima. Qualsiasi addestratore deve comunque attingere a quello che è stata la storia dell'equitazione per poter capire le varie evoluzioni che sono avvenute in tempi moderni. L'unica cosa che io ho fatto nella mia vita è questo mestiere. E questo mestiere è racchiuso nel libro che ho scritto Equitazione e leggerezza. Sono diventato conosciuto soprattutto per i video che ho pubblicato gratuitamente, ormai sono 12-13 anni, e questa cosa mi ha permesso di essere conosciuto dal grande pubblico per poi continuare il mio mestiere che ancora oggi mi piace tantissimo e mi appassiona in modo veramente... Grazie mille a tutti quanti!